ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai parafarmaci ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo il parafarmaco e morgel a cosa serve e morgel a un parafarmaco appartenente alla categoria degli dispositivi non compresi nelle classi precedenti altri è commercializzato in italia dall'azienda naturale igsrl informazioni commerciali titolare naturale igsrl concessionario naturale igsrl categoria di appartenenza dispositivi non compresi nelle classi precedenti altri forma farmaceutica gel confezioni e morgel gel dermatologico 30 ml indicazioni e morgel a un gel viscoso utile come coadiuvante per il trattamento della sindrome varicosa emorroidaria e delle irritazioni della zona perianale modalità d'uso detergere accuratamente la parte con cura e asciugare delicatamente applicare morgel e se necessario massaggiare delicatamente il trattamento ha da ripetersi due tre volte al giorno oppia in caso di bisogno acconsigliabile un trattamento prima del riposo notturno descrizione e caratteristiche dispositivo medico appartenente alla classi in morgel a un'azione rinfrescante in grado di alleviare la sintomatologia di prurito e bruciore ed un'azione emolliente e lubrificante per prevenire le irritazioni da sfregamento delle parti interessate dal disturbo avvertenze validità del prodotto 36 mesi non utilizzare il dispositivo oltre la data di scadenza conservare ad una temperatura inferiore ai 30 gradi lavarsi bene le mani prima dell'uso del dispositivo medico non utilizzare in caso di ipersensibilità o allergia individuale ad uno più a componenti del prodotto l'uso prolungato dei prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione nel caso in cui tali fenomeni dovessero manifestarsi ha indicato sospendere il trattamento e consultare il medico tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini non utilizzare in caso di confezione danneggiata chiudere accuratamente il tubo dopo l'uso l'impiego in gravidanza deve essere limitato ai casi di effettiva necessità in tal caso si consiglia di consultare preventivamente il medico conservare il dispositivo medico in luoghi asciutti al riparo da fonti di calore e di luce diretta si possono verificare lievi differenze di colorazione del prodotto nei diversi lotti di produzione dovute a normali variazioni di colore dell'estratto vegetale utilizzato non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso componenti e ingredienti acqua gam plant molecules propilene glicol idroxypropyl metilcellulose ruscus aculeatus rot extract lactic acid etilexyl glicerine sodium idroxide fenoxietanol fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo paratarmaco esaminato